salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo location un attimino differente ma purtroppo non potevo fare altrimenti ma insomma mi sembra anche una location decorosa vi chiedo di lasciare un like al video iscrivervi al canale per supportarmi vi ricordo che quando arriveremo a mille iscritti potremo finalmente fare live streaming interagire insieme per il resto vi do delle amorose notizie sulla fiorentina in particolare di oriente mi risulta essere molto vicino quasi a un passo la tentativa molto concreta il il giocatore potrebbe liberarsi a costo zero il tottenham lo vorrebbe tenere quindi non è proprio semplicissimo portarlo a casa però sembra che il giocatore a 34 anni voglia fare le ultime due stagioni da protagonista la fiorentina le potrebbe fare giocando un po di più quindi quello risulta a me che potrebbe essere davvero molto molto vicino all'iorente e allo stesso tempo potrebbe essere in uscita simeone glauvi ci sarebbe il vice di violente e sarebbe una fiorentina del futuro pronto a essere il titolare quando gli oriente smetterà e lascerà la fiorentina per quanto riguarda il resto vediamo smentire un interesse della fiorentina per borca valero la fiorentina va già guardato come interesse questa situazione però una volta che aveva guardato un interesse questa situazione ha visto non era una pista praticabile quindi la fiorentina ha deciso di lasciare stare poi cavalerio non arriverà a firenze quindi io 99 per cento do questa notizia poi lascia un 1 per cento perché non si sa mai quello che può succedere biglia è una invece potrebbe arrivare ma potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di mercato a un prezzo veramente molto molto stracciato tra l'altro fra fiorentina e milan ci sono stati qualche piccolo problema perché per tutto andrà alla roma e demme è un nome molto molto caldo è un nome molto possibile chiesa dovrebbe rimanere come ho già detto ho fatto questa campagna dell'idea che chiesa dovrebbe rimanere quindi insomma ho fatto ragazzi un po tutto una serie di aggiornamenti sul mercato della fiorentina vi ho parlato di borca valera vi ho parlato di di orente vi ho parlato di demme delle cose un po più interessanti per demme vi do anche le cifre l'ipsa inizialmente chiede 20 la fiorentina vorrebbe chiudere per un po meno di un indice in operazione e soprattutto la volontà del giocatore veramente molto possibile per il resto ragazzi vi smentisco anche valutelli valutelli non vedrà troppo a testa calda e poi appunto ve l'ho detto siamo molto vicino agli oriente quindi come potete intuire l'uno escluderebbe l'altro vi saluto ragazzi ci vediamo nel prossimo video grazie per seguirmi sempre a presto